siamo con eduarda timbretti grazie per questo collegamento dal ritiro della nazionale italiana di tuffi che sta disputando la coppa del mondo a tokyo che valida anche per le qualificazioni alle prossime olimpiadi ciao eduarda intanto ci fai un commento della tua gara e se sei soddisfatto ciao a tutti e grazie a voi per avermi chiamato allora si sono qua a tokyo per fare anzi ho finito le mie gare ho fatto i tuffi sincronizzati da dieci metri con andreas larsen e sono soddisfatto della gara perché in una eliminatoria molto difficile siamo riusciti ad entrare in finale si tratta comunque di una finale mondiale e noi siamo alle prime armi siamo entrambi molto giovani nuovi nella nazionale e in finale siamo riusciti anche a risollevare un po il la classifica siamo arrivati undicesimi e purtroppo non abbiamo ottenuto il passo olimpico ma quello era un obiettivo molto difficile da raggiungere per fare un esempio nazioni come la germania e gli stati uniti non hanno ottenuto il passo olimpico nazioni che sono nazioni di vetta in questo sport quindi comunque possiamo ritenerci soddisfatti soprattutto per essere riusciti ad entrare in finale poi la gara poteva andare meglio la gara in sé però in una manifestazione del genere è facile farsi prendere dalle emozioni e noi tutto sommato siamo stati comunque molto bravi a controllarci e siamo arrivati undicesimi ad un mondiale che comunque è un risultato che non era sperato e che è un ottimo risultato per dare anche la misura di da quanto tempo tu ti alleni e gareggi insieme al tuo compagno thomas larsen rispetto agli altre coppie da quant'è che voi due gareggiate insieme allora noi abbiamo fatto la prima gara insieme a febbraio dell'anno scorso prima che ci fosse il covid quindi comunque ci alleniamo da un anno e mezzo insieme a intervalli di due settimane perché sono stato convocato in un progetto federale una volta ogni due settimane circa a roma appunto per allenarmi con lui e purtroppo sono stati allenamenti un po' discontinui anche a causa pandemia comunque c'è stata per tutti anche per gli atleti anche se siamo stati comunque parecchio fortunati infatti a maggio 2020 siamo già riusciti a riprendere e da allora ci siamo allenati ancora però rispetto alle coppie che abbiamo affrontato ai mondiali a questa gara qua coppa del mondo siamo veramente una coppia inesperta possiamo dire così ad esempio noi nell'ordine di salto facciamo i tuffi subito dopo la coppia inglese thomas daily e matti lì che sono tre più bravi al mondo e si allenano insieme tutti i giorni da tanti anni si allenano nella stessa fiscia quindi comunque siamo una coppia abbastanza recente questa era di sicuro la punta la gara più importante che ne abbiamo fatto fino adesso ecco lo dicevi a tokyo ti sei incontrato e misurato con i migliori al mondo citavi questo che per noi rappresenta il mostro sacro no la stella britannica tom daily che ricordiamo fin delle olimpiadi di londra ci racconti però brevemente da dove sei partito e come è nata soprattutto la tua passione per i tuffi per questo sport sì allora io sono andato in piscina la prima volta quando ero molto piccolo quando avevo quattro anni grazie a mio fratello più grande che andava in piscina io da fratello minore volevo seguirlo in tutto quello che faceva ho iniziato con il nuoto e solo che al posto che stare con gli altri bambini io mi tuffavo dal bordo e l'allenatore di cuneo mimmo non mi ha visto e mi ha proposto di iniziare a fare i tuffi e da là non ho mai più smesso diciamo così poi ho portato avanti questa passione anche dopo che la piscina di cuneo è stata chiusa ho iniziato ad allenarmi a torino tutti i giorni ormai già da sei anni faccio il pendolare infatti però i risultati stanno arrivando sono contento sono ancora all'inizio della mia carriera lo spero e quindi sono ottimista ecco tu sei un atleta si può dire di alto di altissimo livello ma anche uno studente uno studente di quinta liceo scientifico tra un mese circa darai l'esame di maturità come ci racconti un po' racconti un po' ai ragazzi della tua età come è la tua giornata tipo e come riesci soprattutto a coniugare lo studio e lo sport sì devo dire che non è facile in una giornata tipo sono sempre molto impegnato e sono giornate lunghe come tutti gli studenti vado a scuola dalle 8 all'1 o in presenza eventualmente in didattica a distanza poi all'1.20 c'è il treno per torino arrivo a torino verso le 3 meno un quarto vado a piedi fino in piscina e verso le 3 inizio allenamento fino alle 6 circa e poi prendo il treno delle 6 e mezzo 7 e mezza dipende dalla durata dell'allenamento e arrivo a casa per le 8 o 9 quindi tempo di cenare sono già le 10 e bisogna iniziare a recuperare un pomeriggio di studi tutto di notte, di sera e niente la sera comunque ormai mi sono abituato riesco a stare tranquillo sono da solo perché il resto della famiglia va a dormire quindi studio bene la sera poi mi piace studiare quindi mi faccio prendere più che dal dovere, dall'interesse e dal piacere per lo studio perché non ci fosse quello andare a dormire e in media verso l'una facciamo così riesco a finire di studiare a prepararmi per una nuova giornata di scuola ecco torniamo un po' ai tuoi impegni sportivi invece adesso dopo Tokyo tu non torni in Italia e quali sono i tuoi prossimi programmi sportivi allora tra un giorno parto da Tokyo e al posto che tornare in Italia l'aereo atterrerà Budapest dove ci sono gli europei assoluti di tuffi e in questa competizione gareggero sempre con Andreas Larsen nel sincro da 10 metri e speriamo di riuscire a ottenere un'altra volta una finale comunque arriviamo da una gara abbastanza buona che abbiamo fatto qua a Coppa del Mondo quindi siamo entrambi più da un lato tranquilli perché sappiamo di poter far bene dall'altro però sappiamo anche su cosa lavorare e cosa possiamo migliorare quindi speriamo di riuscire a fare bene prossimi impegni saranno anche gli europei giovanili di categoria in Croazia a Fiume che saranno verso fine giugno in teoria a quel punto la mia stagione finisce poi ci sarebbero ovviamente anche le Olimpiadi quelle però purtroppo il pasto non ce l'abbiamo diciamo che per quest'anno te le guardi ma il prossimo appuntamento dei Cinque Cerchi speriamo veramente di poter essere noi a guardare te a tifare per te in televisione posso sentirmi fortunato perché sarà tra tre anni non tra quattro quindi non bisogna neanche aspettare troppo infatti comunque anche tutti i commentatori sportivi l'abbiamo sentito dicono che il tuo Tolento e soprattutto la tua grande dedizione di questi anni ti porterà diciamo a un futuro che deve riservarti ancora le cose migliori tu adesso sei un ragazzo di quasi 19 anni se ti guardi indietro oltre a ringraziare te stesso a chi devi dire grazie per quello che sei diventato? beh allora il primo grazie va al primo allenatore che è stato Mimmo che comunque mi ha seguito da quando ero piccolo poi purtroppo la piscina è stata chiusa e là devo ringraziare infinitamente mio padre che per quattro anni mi ha portato a Torino dato che ero troppo piccolo per prendere il treno da solo e quindi senza di lui che comunque ha speso tutti i pomeriggi delle sue settimane per quattro anni che non è una cosa da tutti mi ricordo i genitori degli altri ragazzi gli davano del matto però infatti sarò sempre in debito con lui d'altra parte so che lo ha fatto con piacere e che quando le gare vanno bene oltre ad essere contento io dietro c'è la felicità di tutto lo staff possiamo chiamarlo che mi ha seguito lui in primis poi ovviamente devo ringraziare il mio allenatore di Torino che mi allena ancora oggi che è Claudio Leone che anche lui sta venendo ogni due settimane con me a Roma ad allenarmi sta dedicando tanto tempo e passione per questo sport che non è per niente scontato e alla fine va ringraziata anche la scuola il liceo di Cuno perché nonostante i miei impegni sportivi i miei professori sono sempre stati molto comprensivi il dirigente scolastico anche e quindi sono sempre riuscito a portare in parallelo entrambe le strade quella dei tuffi e quella della scuola senza di loro di sicuro non sarebbe stata la stessa cosa quindi devo ringraziare tutti quanti quelli che mi hanno sostenuto in questi ormai tantissimi anni che faccio tuffi hai già anche un'idea di cosa vuoi fare dopo il liceo perché mi sembra che la tua hai detto prima che ti piace studiare e quindi vorresti portare avanti anche forse una carriera di studio certo dopo il liceo sto già iniziando a studiare per entrare a medicina a Torino quindi non la più facile delle facoltà anzi però credo che con l'interesse con la voglia di fare si possa fare tutto quindi scusa ma lo sport è tantissimo nella tua vita in questo momento qua però tu hai le idee molto chiare nel senso non pensi di vivere di sport ecco in generale per il prosieguo dei tuoi anni se non altro per un periodo limitato agli anni giovanili ecco finché riuscirai ad essere un campione di questi livelli beh certo io come obiettivo nella vita da sportivo ovviamente ho quello delle Olimpiadi quindi non mi fermerò finché l'avrò raggiunto d'altra parte però sono consapevole che lo sport non è tutto anzi lo sport è la mia passione eccetera però voglio avere la mia strada da dottore si spera da medico voglio studiare medicina come fa qualsiasi altro ragazzo voglio che lo sport sia una cosa in più nella mia vita un valore aggiunto diciamo così complimenti per la tua determinazione anche la tua chiarezza di idee senti eduardo facciamo ancora un ultimo accenno alla vicenda della tua cittadinanza sono passati due anni lo stesso che le cronistarai Stefano Bizzotto lo ricordava tu due anni fa proprio in questo periodo faticavi a ottenere quella cittadinanza italiana che ti poteva permettere di gareggiare per i colori nazionali pur essendo nato in Italia sentendoti profondamente e soltanto italiano ma per il fatto che i tuoi genitori sono rumeni ecco hai vissuto fino ai 16 anni da cittadino quasi un po' straniero nel paese in cui invece eri nato che bilancio fai adesso di quella vicenda di quei momenti allora non è facile rispondere perché da un lato io ho vissuto tutti quegli anni con molta tranquillità perché il problema più grande diciamo che che la cittadinanza mi portava era il fatto di non poter gareggiare appunto per l'Italia quindi una volta presa la cittadinanza finalmente sono riuscito a gareggiare per l'Italia e quindi a fare trasferte all'estero però comunque mi rendo conto di aver risentito un po' della mancata esperienza nella mia carriera giovanile perché comunque non è facile sopportare la pressione il peso comunque di rappresentare una nazione quindi c'è bisogno di un po' di esperienza per riuscire ad affrontare una gara correttamente è proprio a questo che servono le gare giovanili ad insegnare agli atleti ad affrontare la tensione di una gara per poi arrivare pronti nelle gare assolute io in questo caso sono a Tokyo senza alcuna esperienza alle spalle però credo che credo di essere maturo mentalmente al punto di riuscire a non farmi prendere dalla pressione e credo che questa maturità derivi proprio dal fatto che sono riuscito a sopportare tutti questi anni senza rappresentare l'Italia guardando gli altri atleti gareggiare appunto per l'Italia al posto mio però come bilancio come sommatoria finale direi che è servito tutto nel senso io mi sento cresciuto da ogni punto di vista e credo che adesso vada bene così mi considero contento di aver finalmente la nazionalità e di riuscire finalmente a rappresentare l'Italia e credo che questo adesso è quello che importa guardarsi alle spalle ormai non serve continuerò anzi a guardare al futuro a lavorare per riuscire a fare esperienza andare all'estero e gareggiare al meglio allora noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato con noi e in bocca al lupo per tutto grazie eduardo grazie mille grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi